Ho visto i cortometraggi specialmente quelli dell'Unicef perché come responsabile del cortile Unicef sono stato più o meno sempre lì. Come cartoni mi è piaciuto tantissimo La dama e la muerte perché è fantastico, racconto una storia con un tema un po' delicato in un modo veramente speciale. Parla di una nonna, di una signora anziana che non vede l'ora di raggiungere il suo marito purtroppo defunto perché gli manca tantissimo. Quando finalmente per fortuna o sfortuna una sera, durante una notte muore, si vede proprio la morte che tenta di portarla via però a un certo punto si vede una mano da lontano da questa luce bianchissima che la trascina fuori da questo oblio e si risveglia in un letto d'ospedale. Lì comincia una divertentissima lotta tra la morte e questo medico tra palestrato e finisce che la signora sopravvive però arrabbiatissima, vorrebbe uccidere dalla rabbia il dottore, gli tiro un bel pugno e alla fine non svegliamo come va a finire perché è veramente molto interessante. Grazie a tutti.